Un premio che celebra l'idea pratese del lavoro, l'idea cioè di una crescita che non dimentica il rapporto con il territorio e la centralità della persona. Ecco, e questo è un premio che dà fiducia a un distretto che vive momenti di difficoltà? Sì, è un distretto che deve trovare la fiducia in se stesso, i problemi non mancano, ma insieme possiamo uscirne, se non scordiamo quello che siamo, la nostra identità, il nostro modo d'essere. Ce la può fare Prato? Prato ce la farà, siamo qui per dire esattamente che il governo ha presente gli impegni presi con Prato, intende mantenerli insieme alla comunità civile di Prato e alla forza delle sue imprese costruire una nuova stagione di sviluppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.